Uccisione confermata. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Uccisione confermata. HC-XD nemico localizzato. UAV alle ghie coordinate. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Sì, alle arco! Spectrum! U.A.V. in arrivo. U.A.V. in arrivo. U.A.V. nemico in arrivo. Attenzione, H.C.X.D. nemico localizzato. Ripper ha sete di sangue. U.A.V. in arrivo. Granata in arrivo. U.A.V. alleato in arrivo. U.A.V. ostile in sorvolo. U.A.V. nemico in arrivo. U.A.V. ostile in attività. U.A.V. ostile in attività. U.A.V. ostile in attività. U.A.V. alleato in arrivo. Liquidato. Richiedo un U.A.V. Perimetro stabilito. Quota 10.000 piedi. Attenzione alla correnta rinforzata ultima. All'U.A.V. resta a metà serbatoio. U.A.V. distrutto. 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 eliminato avete visto e questo è niente grazie a tutti